Per realizzare con le vostre mani un tavolino di legno, procuratevi oltre al legname necessario una taglierina, colla vinilica, chiodi, martello, matita, metro, trapano, avvitatore e viti. Iniziate tagliando con la taglierina le quattro gambe del tavolo. In questo video abbiamo scelto le misure di 40 cm x 5 x 2,5. Quindi sempre con la taglierina realizzate la struttura che reggerà il piano d'appoggio. Dovrà essere di 55 x 43 cm e tagliata a 45 gradi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Successivamente applicate la colla vinilica sugli angoli della struttura e incollatene i vari pezzi per poi inchiodarli con chiodi e martello in modo che la colla aderisca meglio alla struttura Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!